Trasoco completato per il municipio di Prato-La Peligna, da oggi si comincia a lavorare nella nuova sede, ristrutturata con tanto di lavori di adeguamento sismico. Dopo il taglio del nastro che risale lo scorso 22 aprile, gli uffici comunali da oggi hanno ripreso il servizio nella sede storica del comune, dopo il trasferimento durato per circa un anno negli uffici dell'ex giudice di pace. Gli interventi di adeguamento sulla sede municipale sono costati 100.000 euro alle casse comunali, un milione di euro invece al contributo economico arrivato dalla regione Abruzzo. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta di trasporti di Sulmona dell'architetto Antonio Angelone, che in tempi record è riuscito a restituire alla comunità pratolana lo storico municipio. L'innovazione energetica e il completo adeguamento sismico sono gli elementi che rendono l'edificio più sicuro, moderno e meno costoso. L'edificio sarà anche punto di riferimento per la popolazione in caso di emergenza.